Coppola che allarga bene per Nayara che tocca legger dolcemente per Valente. Attenzione a Nayara che si presenta a tu per tu con Iarriccio, molto brava. 2-2, il terzo parigi in altrettante sfide. Attenzione ad Alba Diaz che recupera palla, si invola davanti a Deberti. Alba Diaz, murata proprio da Deberti e poi lotta ancora. Deberti strepitosa a dire di no alla numero 14. Errore sulla rimessa laterale dell'audace con Renatigna alla ricerca del suo primo assolo. In questo campionato ci ha provato. Intanto prova a calciare. Ci prova. Ziero. Ci prova. Ancora lei. Parte Ferrara. Pallone lato lato per la conclusione di Isa Pereira. Pressione alta del Falconara. Rozzo. Paratona di Pucci. Calcio d'angolo. Qui Dalmazza recupera il pallone. Attende lo scarico. Il rimorchio Ferrara. C'entra in pieno Pucci. Poi il pallone resta lì. Qui rischia tantissimo sulla pressione di Dalmazza. Ancora Pucci. Uno contro uno. Doppio passo e prova ad andare. Chiusura di Andresa Cheirozza che si lancia tutto a campo. Costo costa della brasiliana. La ruleta. La giocata. Passa su Pia Gomez. Poi ancora Rozzo. Assist per Ferrara. Gran parata di Pucci. Circolazione lunga del Falconara. Bella palla di Ferrara. Pato assist. Isa Pereira. Pasquale impaziente di battere questa punizione. Per Guti e para Raggi. Il tiro di Turiaga. La deviazione di Pereira. Le difese e i portieri hanno avuto la meglio. Sulle attacche. Busignani. Il tiro di Busignani. Il tiro di nona. Anzi no. Il tiro di Russo. Esce con tempi giusti. Tre azioni. Offensi. Il tiro di Cinzia Pereira. Era ancora una volta coperta Margherito. Ma questa volta l'ha presa. Il tiro di Saraniti. Di piede. Difficile perché c'era Brunigna proprio vicino a lei. Il tiro di Busignani. La parata di Margherito. Rovigo con il Turiaga. Si propone Pereira. Il tiro di Cinzia Pereira. Miracolo di Valentina a Margherito. Fungo scavalcata greco. Attenzione ad Amanda. Mascia in uscita. Tra per Alvestaiz. Un po' di spazio. Carica al mancino. Gran botta. Che si allarga. Parte Marches. Addosso a Uselameri. Messa laterale per la lata di Beita. Pallone dentro per Marchese. Limite dell'area. Marchese. Oselame. Beita. Ancora Oselame. Poi Marino. Via de Molfetta. Thaiz. Si ferma. Thaiz col mancino. Mascia. Per Jessica Marquez. Doppio passo. Passa. E poi destro. Oselame. Gira per Valentina Siclari. Pallone direttamente in porta. Oselame. Dentro. Grieco. Grieco in porta. Oselame. Poi Marchese. Oselame. Break però di Soldevilla. Che si presenta a limite calcio. Ma in maniera centrale. Spare il pallone. Va via Vanindo. Contro uno con Tappa. Vanin. 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 Sestari. Subito una super parata. Eccola. Una delle chiavi della partita. Una vita in Italia. Tra le altre le maglie di Solotto. Olympus. Lazio. Reastate. Qui Sestari. Parte Vanin. In mezzo alle linee. Vanin. Suolata. Extra pass. Gerardi. Sestari. Tampa va via. Passa. Numero. Tampa. Tampa. Passa su Sestari. La mette per terra. Palloletto. Paratissima. Di Sestari. Verticale Vanin. Suolata. Numero. Va via. Vanin. Sestari in calcio d'angolo. Balla abbattuta. Manieri a limite. Manieri. Centrale. La sua conclusione. Appoggio dietro da Duda. Di prima. Palla rubata. Elpidio. Elpidio. Guidotti. Duda. Paratona. Coppari. Duda. Coppari. Salvataggio sulla riga di tappa.